Dopo le votazioni che si sono tenute lo scorso 10 dicembre, gli istituti scolastici della città di Caltanissetta hanno comunicato i risultati delle elezioni dei 24 consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per il biennio 2022-2023. È un organismo di partecipazione con lo scopo di educare le cittadine e i cittadini più giovani ad essere protagonisti della propria città, un luogo di incontro dove esprimere opinioni e confrontare idee. È un percorso che è iniziato due anni fa con l'aiuto di alcune associazioni culturali, OICOS, le Madri della Città, che si sono dedicate con grande passione a incontrare i bambini e le bambine nelle scuole, a formare i docenti, perché abbiamo pensato che dovesse essere un percorso completo, un percorso di crescita civile e civica. Spero che al più presto possano riunirsi e intraprendere questo percorso e farci conoscere le loro idee e lavorare insieme a noi. Con questo strumento sono le generazioni più giovani ad avere la possibilità concreta di partecipare e intervenire alla vita politica e amministrativa della città, raccogliendo le istanze e le esigenze nelle materie di competenza. L'insediamento, che era previsto per giorno 10 gennaio nell'Aula Consigliare di Palazzo del Carmine, è stato rinviato e presto sarà comunicata la data.